Scopo di questo video è l'esecuzione dell'esame obiettivo del cranio. Come per tutti gli altri esami obiettivi delle varie porzioni del nostro corpo, anche in questo caso il medico utilizza i suoi sensi, quali la vista, il tatto e l'udito. Per iniziare l'esame obiettivo del capo, innanzitutto si osserva attentamente all'esterno il capo della paziente, poi le si chiede di muovere il capo attivamente, girando il collo da una parte e dall'altra. Poi si completa, si inizia la palpazione e il medico si rende conto se esistono delle alterazioni della scatola cranica del paziente, se esistono delle tumefazioni sul cuoio capelluto e fa anche muovere passivamente, questa volta, la testa sul collo per vedere se ci sono delle alterazioni nel movimento. Una volta fatto questo, sempre con la palpazione si va a individuare, in alcuni punti del viso della paziente, alcune terminazioni nervose che possono essere sede di patologia nervosa sensoriale. Tutto il nostro viso è, diciamo, innervato da un nervo che si chiama trigemino, in quanto ha tre emergenze sul viso, una a livello sopracciliare, una a livello zigomatico e un'altra a livello macellare, si comprime su queste zone per rendersi conto se si evocano dolori importanti, che possono essere sintomi, per esempio, di una nevralgia. Dopodiché si chiede alla paziente di stirare le labbra in una specie di sorriso forzato, per vedere, continui, continui, mantenga così, per vedere se esistono alterazioni motorie dei muscoli facciali. Nell'esame obiettivo del capo riveste notevole importanza anche il riscontro dei riflessi pupillari. Sono quelli che si evocano oscurando un occhio con il palmo della mano e poi, aspettando alcuni secondi, liberando l'occhio e si può osservare che da una piccola midriasi il foro pupillare tende a ristringersi e quindi a diventare miotico perché è investito dalla luce. Altca cosa importante per ciò che riguarda l'attività neurologica è la protrusione della lingua, in quanto la lingua in condizioni normali deve essere, non essere deviata in un lato o all'altro, ma deve essere centralmente tirata fuori e poi il medico osserva anche la lingua se è detersa o viceversa impaniata e quindi è un segno che si accompagna anche a rendersi conto dello stato di salute della paziente. Può tirare fuori la lingua? Ecco, qui possiamo dire che questa è una lingua mediana, normoprotrusa e detersa. Grazie. Allora, con questa prima ricognizione abbiamo esaurito quello che è l'esame obiettivo del capo. Grazie per l'attenzione e per ulteriori informazioni potete sempre servirvi della e-mail che è in questo momento in sovraimpressione sullo schermo. Grazie.